Coce, si avvicina a gara 1 contro Legnano, iniziano i play-off, inizia sostanzialmente un nuovo campionato? Un nuovo campionato perché le 0-20 e le 0-perse sono comuni a tutti perché ad oggi chi ha vinto 15 partite su 30 piuttosto che 25 su 30 ha guadagnato e conquistato una griglia su play-off ma non farà classifica per le prossime palle a due per cui tutti 0-0, un campionato differente e nuovo di conseguenza perché si giocherà con lo stesso avversario un numero X di partite e una cadenza di partite differenti che si gioca o 48 o 72 ore, questo significa un'abitudine non consueta come dice, come è scritta la stagione regolare per cui questi tre elementi fanno sì che c'è una nuova stagione che inizia, c'è un nuovo campionato che inizia e di conseguenza bisogna essere pronti ma su un livello differente perché la richiesta è differente. Legnano, formazione che ha chiuso al terzo posto nel Girone Ovest, ha confermato rispetto alla scorsa stagione lo stesso piazzamento quindi una squadra che si sta consolidando in Serie 2. È solida, è consistente, questo lo dice il campo, lo dicono i risultati, è solida e consistente perché negli anni ha avuto la possibilità di lavorare confermando un nucleo importante dei giocatori, la guida tecnica e quindi questa solidità e questa consistenza gli hanno permesso con merito, e sottolineo con merito, di guadagnarsi un posto nelle prime tre squadre sia la scorsa stagione sia quella appena finita della stagione regolare intendo. Per cui è grande rispetto perché è una squadra che ha dimostrato e conquistato perché ha un sistema, un'identità ben precisa che si è dimostrata funzionale. Noi dobbiamo essere consapevoli del valore dell'avversario, delle caratteristiche, delle qualità dell'avversario e questo è sicuramente il primo aspetto. E poi dobbiamo formulare un atteggiamento, costruirci un approccio ai play-off. Sono due binari che corrono paralleli. Questo approccio deve essere il desiderio, il desiderio di fare bene, il desiderio di conquistare, il desiderio di conquistare una donna intrigante, affascinante che hai di fronte. Per farlo devi avere il cuore che produce emozioni, le emozioni che devono essere il supporto del nostro play-off. Legnano che sistema di gioco mette in campo? Un sistema di pick and roll offensivo dai quali i pick and roll producono vantaggi, dai quali i vantaggi sono bravi di squadra a mantenere i vantaggi. Intendo dire che dal pick and roll cercano di attaccare per provocare una reazione difensiva e sono molto bravi ad approfittare della reazione difensiva poi scatenando un sistema di uno contro uno, di penetre scarica. Hanno sempre quattro giocatori fuori dal perimetro, hanno un giocatore atleticamente il più importante del girone ovest dentro l'area e quindi di conseguenza dovremmo essere capaci di contenere il primo pick and roll ed esplodere di grandi responsabilità individuali nell'uno contro uno. Difensivamente è una squadra che mette pressione, inizialmente, che è organizzata, ha una sua identità e può mettere pressione sul perimetro azzardando qualcosa perché ha Mosley dentro l'area, miglior stoppatore del girone ovest che garantisce a tutti la difesa dell'area stessa. Per cui è evidente che ci sono alcuni aspetti fondamentali nella loro identità di gioco e quindi di conseguenza per consapevolezza dovremmo essere capaci di attaccarli con i punti giusti nostri e inquinarli difensivamente con le nostre forze.